Avete mai provato a contare i puntini di cui è dotata una coccinella per determinarne l'età? Beh, che se ne dica il numero di puntini non va di pari passo con l'età dell'animaletto, anche perché una volta sfarfallata e diventata adulta non compierà più mute, quindi non avrà più la possibilità di cambiare il numero di puntini di cui è dotata. E a conferma della fissità del numero di puntini, basti vedere il nome di alcune specie, che dipende esclusivamente dal numero di puntini di cui è dotata quella specie. Quindi potete capire quanto fuori luogo sia questa idea. Non è che siamo di fronte a un tronco di albero mozzato a cui contiamo i cerchi di accrescimento.